Ciao! Mi chiamo Michele e il mio nome è Marco. Siamo in Santorini e in Perissa, in Rola Villa. Siamo molto bene. In italiano, per favore. In italiano? Sì, in italiano. Siamo in Rola Villa. E si sta benissimo. C'è la piscina. Stiamo veramente bene. Relax, sole, mare. Stiamo benissimo. Stiamo benissimo? Sì! Sì! E ora, cosa stai planando? Oh, questo è il plan di giornata. Posso vedere? Questo è il mapa di Santorini. I ragazzi stanno guardando dove andare oggi, per spendere il giorno. Sì! Sì! Sì, questo è bene. Ma hai giorni qui, hai quanti giorni? 10 giorni? 10 giorni, sì. All together 10 giorni. Questa è l'islanda, Santorini Island. Siamo in Parisa, esatto qui. Qui c'è la Black Beach, tutta questa area. Quindi è la più famosa in Santorini, Black Beach. C'è anche un altro black beach, chiamato Camari, dietro la montagna. E i ragazzi stanno intenzionando oggi, per andare alla regione, che è Fira town e Oia. Fira è circa 12 minuti per car, e un altro 20 minuti per car è Oia. Questo è per Youtube e per il nostro sito. Quindi grazie per partecipare. Bye bye! Ciao!